E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati del nuovissimo video di Adopt Me. Oggi vi faremo vedere il tour di una nostra casa. Cominciamo. Qui siamo nella casa di Franci. Allora, ecco, vi ricordo di iscrivervi, attivate la campanella e così se vi iscrivete diventerete dei venducci di uno, quindi iscrivetevi, cercatevi su Google o su YouTube, potrete cercare. Allora, ecco la casa. Qui ci sono diverse librerie, una piccola televisione. Questa è la casa di Franci perché io ce l'ho diversa, non è la mia. Allora, dopo qua c'è un tavolino. Facciamo dopo vedere la mia? Ok, in prossimo video. Ma perché? In prossimo video. Qui c'è il soggiorno con il divano e la libreria. Qui invece c'è la cucina. Qui ho messo dei diversi aritamenti. Allora, andiamo al piano di sopra. Che è una stanza lettura. Più stanza da bagno e camera da letto. Più stanza segreta. Allora, guardate, ecco, tornata Laura, allora dicevo, questo è un ingresso per i libri, diciamo, dove si legge. Sono diverse librerie. Ah, vedete il pet, ha un elmetto calattico regionale. Se lo volete vedere, vi do, abbiamo fatto un video su questo. Se lo volete vedere, vi do il link in descrizione. Dopo questa, è la mia cameretta. Modessa, però quando mi è basso a me. Qui c'è, dopo qui, c'è il bagno. L'ho ridato e ci ho messo con questi fiori. Lei è la nostra fan. Ti dico bene? Ah, sì. Lei è la nostra fan che ci segue. Allora, dopo andiamo alla stanza segreta. Qua c'è un altro letto. Questa è la stanza segreta. Qua ci sta la stanza segreta della camera di Pantucci, ovvero di Laura e di questa fan. Ando a rompita 23. Allora, qui dopo qua ci sono i balconi con le piante. E qui c'è un altro balcone. Ma la cosa molto interessante, cos'è? Che c'è qui sopra, un giardino pensile. Esatto, io guarda, prendo il pet fly e vado. Pet fly? Perché lei c'è un sacco di pet fly. E tu sei povero. No, come povero? Guarda come ti pet c'ho. Io c'ho due pet ride e due flat fly. Guarda come ti pet c'ho io. Sì, due pet ride. Io c'ho due pet ride e due pet fly. Eh, vabbè. Questo è un giardino pensile in costruzione. Ancora deve finire. Ma questo è un griffin? Eh sì, è leggendario questa roba. Comunque. Comunque allora, questo giardino pensile è ancora in costruzione. Nei prossimi video vi faremo vedere la seconda parte di questo filmato. Ovvero, come abbiamo finito il nostro giardino pensile. Il video di oggi finisce qua. Noi ci vediamo a presto con un nuovissimo video. Ciao. Ciao. Ciao.